Per il Ponte Vecchio da lunedì iniziano le due settimane decisive, perché se il castello di acciaio che reggerà le prime due stilate del monumento è ormai posizionato nella metà dell'alveo messo in secca, ora tocca in assoluto la fase più delicata del complesso restauro, ossia il sollevamento. Saranno i martinetti oleodinamici a compiere il lavoro e a cercare di sollevare con la dovuta lentezza la prima stilata, quella più vicina al centro storico, che è ceduta di 28 centimetri, e poi la seconda stilata, che invece è scesa di quasi mezzo metro e non è detto che potrà essere recuperata del tutto se i legni si sono incurvati. Durante le operazioni di sollevamento il ponte sarà chiuso al passaggio, tranne che nei fine settimana, non si sa ancora per quanti giorni, dipenderà da cosa succederà al momento dell'operazione. Tutto questo lavoro dovrà necessariamente terminare entro aprile con il posizionamento del nuovo legname, perché poi il regime di portata del Brenta è destinato a cambiare e rendere i lavori pericolosi. La terza e quarta stilata, quella dalla parte di Borgo Angarano, vedranno invece gli interventi prima della fine dell'estate, forse un po' più brevi perché lì la situazione appare meno compromessa.